Il primo turno di servizio del principe Harry in Afghanistan è stato interrotto quando i media stranieri hanno fatto trapelare la notizia che si trovava nel paese devastato dalla guerra e c'era una persona a cui si è rivolto dopo che questo lo ha lasciato furioso la recente conquista dell'Afghanistan da parte dei talebani ha spinto il principe Harry a sollecitare i veterani del conflitto ad aiutarsi e offrirsi a vicenda. Ha esperienza personale del paese e de lui stesso un veterano afgano dopo aver prestato servizio in due turni di servizio lì. Ma il suo primo incarico nella nazione dilaniata dalla guerra alla fine del 2007 durante il suo periodo nell'esercito è stato interrotto quando la sua posizione è stata trapelata dai media stranieri. È stato inviato nella famigerata provincia di Elman in Afghanistan in mezzo a un blackout mediatico seguito da tutti i media britannici, incluso il Mirror. Ma appena dieci settimane dopo l'inizio del tour, è stata presa la devastante decisione di ritirare Harry per la protezione sua e della sua squadra dopo che una storia è stata pubblicata all'estero sul suo dispiegamento. Parlando all'epoca, il comandante della task force di Elman, il brigadiere Andrew McKay, ha dichiarato. La decisione di ritirare Harry dalle operazioni non è stata presa alla leggera ed è stata presa in attenta considerazione. Al momento della decisione, era schierato sul campo, conducendo operazioni contro i talebani e quindi abbiamo dovuto considerare non solo le conseguenze per lui personalmente, ma quelle con cui stava servendo al fianco. Secondo l'esperto reale Duncan Larcombe, questo ha lasciato il principe furioso e ha aggiunto che si è rivelato uno dei punti più difficili della vita di Harry. E ha rivelato che solo una persona Chelsea Davy e un posto elbozzuana potevano calmarlo. Duncan in precedenza aveva dichiarato a The Royal Box di Yahoo. Uno degli altri veri momenti negativi nella vita di Harry è stato quando è stato trascinato fuori dall'Afghanistan perché il suo dispiegamento segreto aveva colpito i giornali, il che significava che doveva tornare a casa. Era assolutamente furioso.